Oggi siamo al Parco Archeologico di Francavilla Marittima, dove c'è questo importante evento, l'incontro tra gli archeologi e i cittadini francavillesi, evento organizzato dalla Scuola Internazionale di Archeologia Lagaria in collaborazione con l'amministrazione comunale. Siamo in compagnia del professor Martin Guggisberg dell'Università di Basilea. Professore, siamo alla quarta campagna di scavo. A che punto sono le indagini, le ricerche e quali sono i risultati? Abbiamo trovato una bella zona della necropoli, proprio al centro della necropoli. Siamo scavando da questi quattro anni. Abbiamo trovato delle dombe abbastanza grandi, impressionanti, con bellissimi reperti che ci fanno vedere che c'erano seppelliti anche in questa zona gente molto importante dell'VIII secolo a.C. Per noi è interessante perché la nostra zona, abbiamo scelto, è vicino ad un'altra tomba molto famosa con un reperto che si trova al Museo di Sibari, una coppa che è stata introdotta dalla Fenicia. Adesso vediamo che questa tomba non era una tomba isolata, ma c'era tutta una famiglia, non so, un gruppo di sepolture intorno che anche sono importanti. Il Ministero ha finanziato completamente questo scavo o l'Università Svizzera ha partecipato dal punto di vista economico a questa campagna e alle altre precedenti? No, solo noi, cioè la Svizzera che finanzia tutto, il Fondo Nazionale Svizzero che ci dà la maggior parte dei soldi per tutte le campagne. Dall'Italia abbiamo infatti niente, solo l'aiuto qui dal paese e anche della famiglia De Leo, della signora De Leo, siamo molto contenti di poter approfittare dell'acqua per esempio che è molto importante qui, o dell'ombra, ma i finanziamenti vengono unicamente dalla Svizzera. La sua missione è interessata principalmente a Macchiabate e quindi alla Necropoli, dove erano sepolti sia gli Enotri che i Greci. Per quanto riguarda invece le altre aree del Timpone Motta, pensiamo alla Gorà dove ci sono i resti dell'abitato greco, precedente quello che riguarda gli indigeni e pensiamo ancora all'acropoli del Timpone Motta, dove ci sono le fondazioni del santuario della Dea Atena. Ci sono tante cose, Fraccavilla, questa zona qua è un sito molto particolare, quasi singolo, non esistono pochi altri siti dove si può vedere l'insieme dell'abitato, del santuario, del necropoli e sono anche state fatte ricerche all'intorno, nella campagna per vedere come vivevano, da che cosa vivevano questa gente. Però uno non può fare tutto, deve concentrarsi su una unica zona e poi possiamo mettere i risultati dello scavo degli olandesi, della motta con i risultati nostri e così si arriva ad un'immagine intera. Per questo noi ci siamo interessati alla necropoli. Il parco archeologico quindi è da anni oggetto di interesse da parte degli studiosi internazionali, quindi qual è la particolarità del parco archeologico di Fraccavilla? Il parco archeologico è una cosa, io penso che uno dei nostri doveri è di fare ancora promozione per il sito di Fraccavilla e con il nostro scavo, anche a casa nostra, o tappertutto ero a Roma per dare una relazione, facciamo pubblicità e poi il parco con tutte le sue strutture adesso è là per accogliere la gente, il turismo, la gente della zona. Piano piano penso che arriviamo verso questo fine che è ancora abbastanza lontano per avere tutto finito. Siamo in compagnia del presidente dell'associazione Lagaria Onlus, Pino Altieri. Presidente, in che modo la sua associazione è da supporto all'attività degli archeologi? Da supporto sia sul piano logistico, nel senso che ci siamo dati da fare per trovargli le case dove alloggiare, sia per promuovere sul piano culturale il loro lavoro. Questa è una prima iniziativa sul campo, poi ne faremo una alla fine della campagna di scavo dove gli archeologi svizzeri illustreranno il lavoro svolto e ci daranno i primi risultati dello scavo. Ci vuole ricordare quindi questo appuntamento per i risultati degli scavi? È il 5 luglio alle ore 19.30 nella sala della nostra associazione che gli archeologi faranno il resoconto della campagna di scavo. Ricordiamo che la sede della Scuola Internazionale per l'Archeologia si trova a Palazzo de Santis, quindi nel cuore del centro storico invitiamo i nostri telespettatori a seguire quindi le ricerche della campagna di scavo. Incontriamo ora l'assessore alla cultura del comune di Francavilla Marittima, Pietro Cannataro. Assessore, l'amministrazione comunale quali impegni intendi assumere per valorizzare, per rendere fruibile il parco archeologico? Noi stiamo puntando su questa meravigliosa zona, appunto che è il parco archeologico, abbiamo ottenuto un finanziamento di 600.000 euro, con la differenza che negli scorsi anni e negli anni passati sono stati ottenuti dei finanziamenti per rendere fruibile il parco archeologico. Noi stiamo cercando di valorizzarlo, o meglio, di fare in modo che questo parco sia visitabile. Infatti abbiamo ottenuto un finanziamento di 600.000 euro, che a breve dovrebbero partire i lavori. Speriamo che con questo finanziamento riusciremo finalmente a portare alla luce questo parco, che è importantissimo a livello di studi, ma meno importante a livello turistico. Incontriamo ora la dottoressa Silvana Luppino del Museo archeologico di Sibari. Dottoressa, anche qui oggi lei è impegnata in questa giornata che vede gli archeologi svelare il loro lavoro ai cittadini di Francavilla. Io sono responsabile dello scavo per conto del Ministero per i beni culturali, che dà una concessione alla missione archeologica svizzera ogni anno. Quest'anno la concessione è triennale, cioè dura tre anni. Siamo molto soddisfatti dell'andamento dei lavori, perché si tratta di una missione scientifica molto seria e molto motivata, che ci ha consentito, dopo oltre 40 anni, di riprendere le indagini archeologiche nel sito di Macchiabate di Francavilla. Pensi che l'ultimo scavo è stato nel 1967. Lo scavo è composto da una missione dell'Università di Basilea svizzera, sotto la direzione scientifica del professor Martin Guggisberg, che insegna archeologia classica all'Università di Basilea, il quale è supportato da un'equipe di 12 archeologi, ma anche da tecnici, come per esempio è un'antropologa che analizza i resti ossei delle tombe disegnatori e quindi è un'equipe completa dal punto di vista scientifico. Siamo molto contenti che con questa missione si possa riprendere tutta una serie di problematiche, affrontare una serie di problematiche che riguardano la conoscenza più completa dell'area di Macchiabate e quindi una conoscenza che può aiutarci per una valorizzazione che speriamo arrivi presto. vorrei ricordare soltanto che l'area è di proprietà comunale, è il comune di Francavilla che è proprietario dell'area e quindi ci aspettiamo una forma di collaborazione molto stretta con il comune per la pulizia, per la manutenzione, ma anche per la fruizione. Noi vorremmo che questi incontri sul posto avvenissero a cadenza regolare e che ci fosse anche un servizio di accompagnamento e accoglienza anche nei periodi in cui la missione svizzera non opera, perché la missione svizzera in genere opera circa 40 giorni all'anno durante la stagione estiva. Noi speriamo di poterci rincontrare e di poter avere ancora un maggior numero di ospiti sul posto, perché forse vedendo le cose da vicino si riesce a comprendere meglio qual è l'attività che si svolge in periodi dell'anno non sempre favorevoli dal punto di vista climatico e capire tutti questi discorsi che si fanno sulla stampa, gli incontri al comune di Francavilla pubblici ogni anno, di solito in autunno. È meglio comunque avvicinare i cittadini alle realtà come abbiamo tentato di fare oggi, sperando nella prossima occasione di avere un maggior numero di adesioni. I reperti di Francavilla sono tutti custoditi al Museo di Sibari. C'è possibilità che Francavilla possa avere un giorno qualche reperto, proprio per rendere più visibile la storia di Francavilla, perché al di là delle fondazioni se arriva un turista o comunque lo stesso francavillese non riesce forse ad appropriarsi completamente della sua identità. Questo è assolutamente nei programmi della soprintendenza e negli accordi già fatti anche con precedenti amministrazioni comunali. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a dare una parte dei reperti al comune di Francavilla che ha già predisposto, peraltro, una struttura molto importante ai piedi del Timpone Motta, al cosiddetto antiquarium del Timpone Motta. L'unico problema è la gestione di questo servizio, perché è un sito che avrà bisogno, oltre che di accoglienza e accompagnamento dei turisti, anche di un sistema di videosorveglianza, se all'interno vengono poi esposti dei reperti archeologici. Bisogna procedere a un stringere i tempi per un accordo che ci consenta di portare anche qui dei materiali da presentare a chi poi andrà a fare la visita delle aree archeologiche, del parco archeologico. Noi ringraziamo la dottoressa Lupino e quindi invitiamo i telespettatori a visitare il parco archeologico di Francavilla. A voi studio!